Anche quest'anno il Museo Nazionale d'Abruzzo aderisce all'edizione 2024 di Univac Street Science con due eventi dedicati al restauro. Nel gazebo allestito nel Parco del Castello sono state illustrate le attività di diagnostica e di analisi utilizzate nel triennio 2022-2024 per il restauro di oltre 25 opere del Museo Nazionale d'Abruzzo. Le indagini diagnostiche che noi facciamo sono per lo più fatte sulle opere d'arte, quindi sui dipinti, sulle tavole ma anche sulle sculture. In particolare presentiamo delle radiografie fatte sulle sculture rinascimentali del Museo dell'Aquila e in particolare su dei capolavori come per esempio il San Sebastiano di Silvestro dell'Aquila. Questa parte scientifica è fondamentale durante la ricerca di uno storico dell'arte perché ci fa comprendere la tecnica anche di esecuzione di queste opere e quindi ci fa comprendere lo stile e la tecnica di un determinato artista. E questo è fondamentale per la ricerca ma anche al pubblico per comprendere ed entrare maggiormente nell'opera d'arte. Come e perché un giovane si dovrebbe avvicinare a questo mondo così complesso? Beh sicuramente per passione perché l'arte è una passione e il restauro ancora di più. Il Museo Nazionale d'Abruzzo si occupa della tutela e conservazione delle opere che fanno parte del suo patrimonio artistico e culturale e a questo fine è importantissimo il restauro per assicurarne la conservazione nel tempo.